Benvenuti per quello che sarà l'ultimo aggiornamento per il 2012 sulla concimazione. Partiamo trattando di direttiva nitrati e specificamente parliamo di periodi di divieto, periodi di divieto alla distribuzione di effluenti zootecnici. Questo periodo di divieto dipende dalla natura dell'effluente zootecnico e quindi dal 1 di novembre fino al 31 di gennaio non si potranno distribuire letami e materiali ad essi assimilati e fra questi ricordiamo che è compresa anche la parte palabile dei digestati degli impianti di biomasse. Non si potranno distribuire ammendanti e non si potranno distribuire nemmeno concimi di sintesi chimica contenenti azoto. Il periodo di divieto invece è un po' più lungo perché dal 1 di novembre si estende fino al 28 di febbraio. per quanto riguarda i liquami e per quanto riguarda la parte chiarificata del digestato che proviene appunto da impianti a biomassa. Per quanto riguarda questi materiali in realtà esiste un'eccezione che riguarda quei terreni che abbiano durante l'inverno una copertura vegetale nei quali parimenti ai letami il periodo di divieto invece finisce il 31 di gennaio. Passiamo a trattare delle singole colture e partiamo da un gruppo culturale che invece tratteremo nel suo insieme che è quello dei fruttiferi e specificamente parliamo di concimazione azotata di post-raccolta o comunque di concimazione autunnale. La concimazione di post-raccolta è importante perché consente alla pianta di elaborare sostanze di riserva che utilizzerà sia per la maturazione delle gemme sia per la ripresa vegetativa sempre della prossima stagione. In termini generali ricordiamo che nell'ambito dei disciplinari di produzione integrata viene fatto di vieto di distribuire in post-raccolta più di 40 unità di azoto per ettaro e viene fatto di vieto anche di distribuire questa quantità di azoto successivamente al 30 di settembre. e bisognerà ovviamente anche tenere conto comunque delle necessità dell'impianto necessità che saranno state determinate con un metodo o analitico o sintetico quindi quello del bilancio o quelle delle dosi standard che sono metodi che consentono comunque di determinare in maniera più precisa quelle che sono le necessità reali dell'impianto su cui si fa la concimazione. Passando alle culture orticole qui trattiamo innanzitutto di carota nella carota c'è la necessità di apportare azoto in quegli impianti che sono stati seminati tardivamente per tardivamente si intende dopo il 15 di agosto il consiglio è di distribuire azoto in misura di 15-20 unità per ettaro possibilmente sotto forma di nitrato di calcio che è la forma diciamo di azoto più prontamente disponibile. Passando invece ad esaminare un'altra orticola parliamo di radicchio in questo caso bisogna fare una distinzione fra il radicchio che andrà raccolto all'ottobre e quello che invece andrà raccolto all'inizio della primavera dell'anno prossimo. Nel caso del radicchio chiamiamolo così precoce quindi quello a raccolta autunnale si stimolerà la vegetazione con l'apporto di una quantità di azoto anche qui nell'ordine di 15-20 unità per ettaro utilizzando nitrato di calcio che è la forma più prontamente disponibile e questo sarà presumibilmente l'unico intervento che sarà necessario fare su questa tipologia di prodotto. Diverso invece il discorso per quanto riguarda il radicchio che andrà raccolto nella primavera dell'anno prossimo o fine inverno dell'anno prossimo. In questo caso bisognerà intervenire più o meno alla distanza di 2-3 settimane dal primo intervento con nitrato ammonico per il secondo intervento distribuendo 40-50 unità per ettaro e prevedendo però un ulteriore terzo intervento sempre a distanza di 2-3 settimane dal secondo in questo caso, in quest'ultimo caso con urea e distribuendo 60-70 unità di azoto per ettaro. Ricordiamo che il quantitativo massimo di azoto distribuibile per anno previsto dalla direttiva nitrati su radicchio è di 190 unità per ettaro. Per finire parliamo di fagiolo e fagiolino autunnali anche in questo caso è consigliabile un intervento con azoto ricordiamo che il quantitativo massimo portabile secondo la direttiva nitrati è di 70 unità per ettaro in questo caso il consiglio è di distribuire intorno alle 50 unità per ettaro e di utilizzare anche qui un concime a pronto effetto come può essere il nitrato di calcio. Per questa puntata e per quest'anno è tutto io vi saluto nell'esperienza che i miei, i nostri consigli vi siano stati di utilità nella vostra attività lavorativa.